se a meno lì e però secondo me soprattutto nella terza stagione avrà uno step di crescita abbastanza per quanto poi non è che c'è il caratter design è sempre quello credo ne valga la pena pare si tratti di una cosa un po singolare signori belli perché usare le armi se possiamo risolverla da uomini lo sai qual è il problema amico mio? tu l'hai messa su M che sta per mini ma dovrebbe essere su W ma riuscite a immaginare che Vorty resta intrappolato per vent'anni solo come un povero allocco la roduta più roduta di tutte le rodute che mi hanno roduto dobbiamo beccare sto stronzo che ci ha fregato la tv e dove si è cacciata?